No, non sai che ti dico, riportali dietro. Eccoli, i miei ballerini golosi, beccati! Ma Millie, dopo un pomeriggio di prove, una pausa con biscotti gentilini ci vuole troppo. Gli osveco sono il massimo per far decollare il buon umore. Hai capito i buon gustai? Se le intendono di ballo, ma anche di qualità e genuità, perché gentilini, dal 1890, delizia il palato con ricette antiche e pregiate, preparate ancora con la stessa passione. E con materie prime selezionate, ingredienti genuini. Si vede, ti sei mangiata da sola un pacchetto di osveco gentilini. Senti come profumano, miele, malto, lavorazione accurata e cottura lenta. E ci sono anche nella versione ai 5 cereali e nel pratico sacchetto, da 400 grammi, in formato mini. Io mi sarei mangiata un pacchetto di osveco? E questi novellini? Ti posso dire che sono fatti con tanto buon latte fresco e solo miele di fioriture spontanee. E naturalmente che vengono trafilati al bronzo e per questo non è possibile trovarne uno uguale all'altro. Vero Marco? Mi arrendo, mi arrendo. E gentilini non vuol dire solamente osvego e novellini, ma una varietà eccezionale di prodotti squisiti, come le mitiche fette biscottate, nelle tre varianti classiche, tostate e integrali. E sono necessarie oltre 10 ore di lavorazione, per ottenere fette biscottate così buone, spesse e dorate. Ah, ma qui ce la spassiamo, eh? Per voi ricominciano le prove. E i vostri biscotti gentilini? Ci penso io. Gentilini, tradizione e qualità dal 1890.